Ciao! Cosa avete fatto qua? Abbiamo fatto un vulcano con il drone, la lava e il carbone. Wow! E questo cosa è? È un programma? Abbiamo un programma. Un programma? Dele istruzioni per Minecraft? Sì, si serve per Minecraft. Si può vedere cosa che fa questo? Come si fa? Un vulcano. Sì, si dà. Si fa. Ok. Questa è la nostra torre. E si fa. Avete aggiunto un comando? Wow! E ci esce questo un vulcano con la lava. Wow! Che bello! Vi piace fare questo? Sì! Sì! Ok! Bellissimo! Grazie! Grazie a tutti!